Continua il nostro viaggio nei paesi dell'entroterra Terramano, un territorio piegato dall'eccezionale ondata di maltempo e dal terremoto. Distruzione, desertificazione ed economia azzerata, tre elementi che descrivono perfettamente queste realtà. A Castelcastagna, dove esiste, anzi esisteva, la storica e florida azienda dei salumieri di Castelcastagna, si stimano almeno 2000 maiali morti sotto il crollo di 11 stalle. Tutto da ricostruire, il conto è pesante, almeno 10 milioni di danni. Saliamo poi ad Intermesoli, un paese fantasma, non si sente una voce e sono le 10 del mattino, fili del telefono spezzati e pensolanti, la chiesa della piazza visibilmente lesionata. Saliamo ancora, attraversiamo Pietracamela per raggiungere Prati di Tivo, ma siamo costretti a fermarci, non possiamo proseguire perché la strada è transennata. Dal 21 gennaio, con ordinanza del sindaco Michele Petraccia, sindaco di Pietracamela, la stazione scistica di Prati di Tivo è stata interdetta a chiunque, non si sale più, il rischio valanghe sarà sicuramente riconsiderato nei prossimi giorni, ma ormai la stagione scistica è terminata. Un momento tragico, stava dicendo, ma questi aquilotti ai Prati di Tivo quando torneranno a volare? Volano, ma torneremo a volare. C'è stata una congiuntura negativa perché il maltempo che è una normalità, però sopraggiunto nel giro di poco tempo, due giorni, quasi in paese 2,80, 3 metri di neve, quattro scosse forti in mattinata, è stato veramente tragico. Mancata la manutenzione, secondo lei, di questa montagna? La manutenzione manca da anni, perché sì, il parco è venuto a proteggere cosa? A togliere la fruizione della montagna al montanaro. E se ai Prati di Tivo è vietato salire, torniamo indietro e ci fermiamo al centro di Pietracamela, uno dei borghi più belli d'Italia. Gli ultimi imprenditori a resistere sono i Montauti, una famiglia che per tre generazioni ha investito in questi luoghi, in alberghi, ristoranti, ritrovi e in un parco avventura ai piedi del Gran Sasso, ma che ora non vede più un futuro. Incommensurabile il senso di abbandono da parte delle istituzioni e della politica. Linda, lei è un'imprenditrice, ha investito tutto, ha investito la sua vita qui, in questo territorio, in queste zone. Adesso che bilancio fa? Il bilancio è negativo, è sinceramente deprimente, perché oltre ad aver investito la mia vita, prima della mia vita c'era quella dei miei genitori, tutti i loro sacrifici, di generazioni, di persone che hanno lavorato tanto e hanno creduto in questo territorio, hanno creduto, e questa è la grande disillusione, aver creduto in una cosa che poi non si è rivelata tale. Quando uno mi viene a dire la montagna se non fate qualcosa, noi non possiamo fare, noi siamo la parte privata, noi abbiamo già fatti alberghi, investimenti, cerchiamo di mantenere le strutture. È la parte politica che non ci segue più, ma perché c'è un bacino di voti, ma irrisorio. Noi siamo 35 persone a Pietracamela, ma di queste 35 persone non nessuno ha tanto interesse. Poi vogliamo dire che questa montagna è tra le più belle d'Europa? La bellezza non paga, io lo continuo a ripetere, sono posti bellissimi in tutto il mondo, non possiamo continuare a pensare che la bellezza del Gran Sasso salverà il Gran Sasso. Facciamola finita, ci vuole una politica economica di marketing, qua ci vuole un, come ti posso dire, un imprenditore, un manager che possa rilanciare a livello proprio manageriale, con operazioni mirate, studiate, il Gran Sasso. Il Parco Gran Sasso? Il Parco Gran Sasso non esiste, il Parco Gran Sasso non esiste, esiste sulla carta. La sopportazione di questa gente di montagna è allo stremo, passi per essere stati senza energia elettrica nove giorni, passi per non avere ancora linee telefoniche riattivate dal 18 gennaio, ma una strada decente che li colleghi al mondo la pretendono come un giusto diritto. E quando a Pietracamela arriva il postino, nonostante tutto, diventa una festa. Ma tra tante immagini negative, se volessimo ricordarne una positiva di questa ondata di maltempo, qual è? È stata che abbiamo avuto un grande conforto e aiuto a tutto campo da parte della Svizzera, del Trentino, con mezzi potentissimi, con i bruchi, con le turbine, con i mezzi più piccoli. E poi alla fine è tutto finito, il lavoro eccetera, questi bei giovanotti, bellissime persone, gentili eccetera, hanno messo tutti insieme tutti i gruppi, i mezzi, i bruchi, le turbine, le ruspe, le cose, hanno messo tutti insieme, hanno acceso tutte le sirene, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e sono andati via.